Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 137. Siamo nel periodo di carnevale e quindi ho pensato di parlarvi di un carnevale storico molto bello e particolare che è il carnevale di Cento. Prima di tutto è importante sapere dove si trova. La città di Cento è nella regione dell'Emilia Romagna e più precisamente nella provincia di Ferrara. È però definita la piccola Bologna sia perché si trova più vicino a Bologna che a Ferrara, infatti Cento si trova a 25 chilometri da Bologna, a 32 chilometri da Ferrara e a 38 chilometri da Modena, ma anche per la sua stessa gastronomia e per la sua architettura con i portici, il centro storico molto simile a quello di Bologna. Infatti il nome di piccola Bologna che danno proprio a questa città Cento deriva dal fatto che è molto simile. Il nome di Cento deriva dal latino quando i Romani dividevano il territorio in centurie. La prima comunità di persone risale al 1185. Papa Benedetto XIV le ha dato poi nel 1754 il titolo di città. Nel XIX secolo ha fatto parte del regno napoleonico e molte opere d'arte della città sono state portate in Francia, alcune delle quali non hanno mai fatto ritorno, come alcune opere del Guercino. Guercino era un famoso pittore barocco nato proprio in questa città, nella città di Cento. Ma torniamo al Carnevale. Il Carnevale di Cento risale al 1600 e questo lo sappiamo proprio grazie ad alcuni quadri di questo pittore. Durante i festeggiamenti però ci sono stati nei secoli discorsi episodi di violenza e il governatore della città ha fatto emanare delle notificazioni, cioè delle denunce, unzigen accusations. L'antica tradizione vedeva la rappresentazione di personaggi delle fiabe ma proprio in questo periodo si passa dalle fiabe ai mascheroni che descrivono personaggi dell'epoca. All'inizio del 1900 gli abitanti della città pensano di creare un proprio re e il re era il simbolo del Carnevale. Il re simboleggiava la coscienza dei cittadini. Così nasce Tasi che in realtà era Luigi Tasini, è un personaggio che è veramente vissuto e realmente esistito. Nel 1947 nascono le società carnevalesche e alcune di queste sono ancora presenti e attive. La festa di questo Carnevale ha mantenuto una forma tradizionale locale fino agli anni 80 quando c'è stata una vera e propria rivoluzione. Ivano Manservisi, il patron come si dice, cioè l'organizzatore del Carnevale, nel 1990 prende in mano l'organizzazione del Carnevale e lo porta a fama internazionale grazie anche al gemellaggio, gemellaggio Stette Partnerschaft, twinning, con la città di Rio de Janeiro dove per alcuni anni ha sfilato il carro di Cento vincitore dell'anno precedente. Nel 2012 a Cento c'è stato un brutto terremoto, terremoto Erdbeben, Earthquake e il percorso della sfilata, sfilata Zug Carnival Parade è stato ridotto. Anche durante la pandemia del Covid il Carnevale è stato rimandato ma dal 2022 i festeggiamenti sono ripresi regolarmente. Questo Carnevale dura cinque domeniche e i carri sfilano per tutto il centro storico. Dai carri vengono buttati agli spettatori peluche e gonfiabili. Peluche, teddy bears, teddy bears e gonfiabili aufblasbare objekte, inflatable objects, più o meno. Insomma, dei regali per gli spettatori, quelli che stanno a guardare la sfilata. In piazza Guercino, questa piazza prende il nome dal famoso pittore. Ecco, in questa piazza l'organizzatore della festa presenta la manifestazione accompagnato da persone note dello spettacolo. L'ultima domenica c'è la premiazione del carro più bello e ci sono premi per i costumi, per la musica, per l'animazione. Alla fine la maschera locale, il Tasi, viene bruciata. Prima di finire a rogo, Tasi legge un testamento in dialetto locale dove lascia tutti i suoi averi ai personaggi più conosciuti della città. Il tutto è seguito poi da uno spettacolo pirotecnico, Feuerwerk, fireworks. I carri di cartapesta, cartapesta papier-mâché, sono creati interamente dalle società carnevalesche e superano i 20 metri di altezza e i 6 metri di larghezza. Durante il carnevale il magnifico borgo medievale centese si riempie di iniziative culturali, letterarie, sportive, enogastronomiche, musicali, folcloristiche. Ci sono anche gruppi che ballano la samba per onorare la città gemellata di Rio. Quest'anno il carnevale durerà fino al 25 febbraio e verrà aperto, cioè è già stato aperto, da rombanti Ferrari e la festa è come sempre inaugurata da Tasi, la maschera simbolo del carnevale di Cento che porta sempre un cilindro ed è accompagnato da una volpe bianca. Oggi invece, domenica 4 febbraio, la sfilata viene aperta dalle Fiat 500 storiche, conosciute come le topolino. Come vedete in questo mese c'è tanto da divertirsi a Cento. Io invece voglio ancora darvi una ricetta per un dolce tipico di carnevale. Questo è la seconda ricetta di carnevale che vi propongo e si chiama i friccioi, che però non sono tipici di Cento ma della mia regione, il Piemonte. Vi do prima gli ingredienti. 250 grammi di farina tipo 00 che in Germania è la 405, 200 millilitri di latte, 100 grammi di zucchero, 3 uova, uva passa, la scorza grattugiata di un limone, mezza bustina di lievito per dolci, sale, olio di semi per friggere e zucchero a velo per decorare. Passiamo adesso alla preparazione. Primo passo, in una ciotola mescolate la farina, il latte e le uova creando un impasto liquido e senza grumi. Poi aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, l'uvetta e la scorza di limone. A parte mescolate un cucchiaio di farina con il lievito, poi aggiungetelo all'impasto. In una padella scaldate l'olio finché non sfrigola e aiutandovi con due cucchiai create delle palline con l'impasto e fatele cuocere nell'olio finché non diventano dorate. Scolate i friccei, assorbite l'olio in eccesso con della carta assorbente, cospargete con lo zucchero a velo e serviteli belli caldi. Vi ricordo che potete provare anche la ricetta delle bugie che trovate all'episodio numero 39 nel quale potete anche sentire l'interessante storia di un altro carnevale storico, quello di Ivrea che vi avevo già raccontato. Bene, miei cari amici, spero che questo episodio corto vi sia comunque piaciuto e vi auguro buon carnevale e buon divertimento se decidete di andare a 100 o anche solo di provare questa dolce ricetta. Grazie mille, ciao a tutti e a presto da Luisa. Ciao ciao!